La battaglia contro il coronavirus continua ogni giorno e ogni giorno medici, infermieri, operatori sanitari, volontari lottano con forza per salvare e guarire le persone ammalate. Per questo Radio Bruno vuole dedicare a loro, ai nostri eroi, un momento speciale. Martedì 21 aprile alle ore 11 in diretta radio e tv faremo sentire la vostra voce per dire grazie. Grazie. Partecipa anche tu, scrivi un messaggio, registra un breve vocale e insieme diciamo grazie Angeli. Grazie Angeli. Perché con loro ce la faremo. In collaborazione con Coop Alleanza 3.0